3, 2, 1 Ciao, benvenuti in questo nuovo video Io, noi, siamo leggiate del CSB e oggi faremo una challenge molto difficile per me Si tratta di una prova di abilità di tante prova di abilità Sì, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allora, si tratta di esercizi tipo di coordinazione a cui noi abbiamo anche dato un nome Allora il primo diciamo che è il tamburello perché mi piace meno Allora, in pratica si tratta dobbiamo fare dei cerchi opposti con i pugni Oddio, oddio Ce l'hai fatto! Ce l'ho fatto così Ce l'ho fatto No, ma c'è tipo così Così? Buona roba strana Oh, aspetta, aspetta mi stai conto meglio È giusto? Sì È giusto Ok, prima faceva così E io Erika anche dall'altra parte No, no Così va bene Così va bene Quindi questo Ci siamo Vai Fai una bella Tutte e due Allora Va bene Ce l'ho fatta Comunque 1 a 1 Ora Ho scritto con la K Certo Sempre Io Sappiro Anche se mi metteremo Se mi toccare Questo qui Quindi lo definiamo Ora Lo schiocca dito No Allora Praticamente Devi schioccare le dita E fare con una mano Un triangolo E con l'altra mano Invece andare su e giù Tra l'altro Questo era tipo un TikTok Sì E vai Inizio Funziona? Sì Sì Vai E uno Allora Prato Sì Sì Non è che è giusto Ma non è andato a tempo Ma che te fega Basta che sia giusto Basta che sia giusto Non deve andare a tempo Sì Devi fare insieme Questi Pure insieme Cioè Non bastava che Non si schiocca E' finita E' scoordinatissima Fa malissimo Ci diamo un mezzo Ai Fa malissimo Ma Facciamo un mezzo No ma perché è mezzo Perché andava bene Perché non eri coordinata Ma non è vero Andava benissimo No No Dai Uno perché andava benissimo Io darei mezzo No Uno Facciamo il t Cos'era? Sì Secondo me quello è che è la fine No io voglio fare Ah va bene sì Va bene hai ragione Ok Ora Scimietta Questo hai detto No Ok La scimietta Devi battere Cioè picchiettare Con una mano Sulla testa E con l'altra Girare Prova anche con l'altra E vabbè però Hai visto No Cosa hai fatto? Sulla testa Sulla testa Non riesco A quell'altra No Mezzo Io ne sono tutte e due Sì Guarda Devi battere Batti Batti Basta Non ce la fai Stavolta ti do mezzo Cioè Non riesci a fare con te due Mezzo Però Era solo con l'altra Eh sì Vai questo qua Ora Picchiarello Consiste nel Picchiare il pugno Sulla gamba E con l'altra mano Devi sfregare Ecco E ora E ora L'altra Ma perché? Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Brava E ora Questo qua Il cambio dito Ora Change Finger 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 Non ce l'h però Change finger Finger È il dito comunque Ovvero Cambio dito Questo qua Io non so se riesco a farlo Pollice Cambiare Fare Con me Ce l'ho fatta? Io sì Guarda Sono troppo forte Ti sta bene Ti sta bene Guarda Guarda No ce l'ho fatta Io darei mezzo Mezzo Palesemente mezzo Se non zero No Mezzo Perché qui li ho fatti E ora È arrivato Il momento E ti Lo devi mettere così Andiamo a sdraiarci In teoria Vabbè però fa vedere Prima da in piedi Vabbè però Vabbè il braccio teso E fare No Erika davanti alla faccia Devi passare Così E toccarci Perfettamente Tra l'altro l'h abbiamo fatto Anche in un video No Io non c'ero Io non c'ero quindi Però bisogna farci filmare No No vabbè possiamo mettere un piede Ci mettiamo tipo così No ci mettiamo Lo facciamo Allora in teoria Sdraiarci Però Non c'è nessuno che ci fa Quindi lo facciamo così Devo stare con la spalla Proprio attaccata Non c'è un po' più comodo Ma adesso Vai Sei troppo lenta 3 2 1 Ma perché io so che ci facciamo male 3 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 le parole perché io me le ho smettate 1, 2, 3 vieni un po' che le punta non ve lo faccio perché io sono una persona 1, 2, 3 no vedi dove è il mio dito io lo vedo tra le dita 1, 2, 3 1, 2, 3 no mi sto nervosendo 1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6 5, 6 vai direi provatissimo siamo pari e questo no non è così non è così no dai dai non ce la faccio dai facciamo questo dai Bene. Ecco, l'ho fatto. Oh, provo negativo! Vai, Erika. Perché ci cado? Perché il pollice? Ok, va bene. Mi scappare. Mi prendo. Mi prendo. Ok, va bene. Ti prendo io? Vai, se si viena di me. Mi forza, prego. Ok, più l'ho. Oh, sì! Oh, sì! Oh, sì! Oh, sì! Io mi ricordo, tipo, quando mi faccio. E ci ha fatto. E ci ha fatto qua. Siamo arrivati alla fine di questo video Speriamo che il video vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale E lasciate tantissimi like Fermate a fare adios Adios